Oggi diamo concretezza già dopo un giorno agli accordi chiusi al Cairo tra governo italiano e governo egiziano. Abbiamo qui una delegazione del porto di Damietta che non è composta solo dai rappresentanti della porta authority ma soprattutto dai rappresentanti di quelle che sono le merci che dovranno viaggiare sulla linea Trieste-Damietta e la linea Rorò. Quindi siamo già nel concreto, stiamo già discutendo di questioni che riguardano gli aspetti doganali, gli aspetti fitosanitari perché c'è molta voglia soprattutto da parte degli egiziani di aprire attraverso Trieste quello che è il grande mercato del centro dell'est Europa. Chiaramente le stesse cose gli operatori italiani stanno chiedendo per quelle che è l'operatività sul porto di Damietta relativamente all'export che chiaramente non riguarderà solo prodotti italiani ma anche prodotti che avranno le stesse origini europee e continentali dei paesi di destinazione delle merci egiziane. Quindi siamo già nel concreto, stiamo già discutendo, penso che anche l'elemento della crisi del canale di Suez stia creando una certa aspettativa nei confronti di questo nuovo servizio Rorò tra il porto di Trieste-Damietta che pensiamo di mettere in campo dopo l'estate. Dopo la firma di questo bilaterale finalmente potremo partire con questa importante linea dell'Egitto su Trieste e diciamo che quindi il modello delle autostrade del mare della Turchia finalmente potrà venire implicato anche su questo importante paese del Nord Africa e speriamo sia l'inizio di ulteriori possibili sviluppi in questo senso. La grossa differenza con la Turchia dell'autostrada del mare con l'Egitto è che appunto nasce soprattutto per volontà italiana e l'autotrasporto italiano potrebbe avere un ruolo molto importante. Mentre in Turchia l'autotrasporto turco era già molto strutturato, in questo caso invece ci si è una grossa possibilità di sviluppo soprattutto per i trasportatori italiani e quelli europei. Quindi sicuramente una linea che aiuterà anche una grossa parte dell'economia nazionale. Ora cominceranno i contatti operativi più concreti, quindi la linea si auspica possa partire in autunno di quest'anno e con una nave alla settimana per poter eventualmente nella primavera del 25 a fronte del concreditarsi di un certo tipo di flussi di carico anche raddoppiare la capacità e quindi passare a due navi alla settimana. Hello, my name is Hisham al-Naggara, I'm the vice chairman of the Agricultural Expert Council and also an exporter of fresh produce from Egypt. We are very excited about this new line that is going to be between Tomiata and Trieste. We think this is going to be a very good future for both countries and also for our industry and agricultural product. I think the potential is huge and we think that Egypt with Italy relationship in the agricultural sector and all a lot of other areas that can be developed very, very well. I think we have to be very flexible as a country and as authorities and operational to make this work very well and I think this is going to be very good for the whole industry in Egypt and Italy. Good morning, this is Marwan El-Chesli, vice president of Marketing and Contracts in Pamerin Group. We will be the main agent in Damietta Port. We will handle the terminal in Damietta Port, we will be the agent of DFDS, also represent Medron and we will be supporting all the Italian trailers operation in Egypt. We are really happy to be here in this project, enjoying the success of it. We have been here, we have been developing this project since 2018. Finally, we signed yesterday the government-to-government agreement and we are really happy to be part of this and looking forward to expand the economic and the business relationship between Egypt, Italy, South and North Europe and also through Egypt to Africa and the Middle East. We are really happy to be here in this project.